un ribelle locale di nome azimuth se ha pensato che fossi uno di nome azimuth vuol dire che c'è un altro no un bacio può essere non scopriamo di altro pensiamo una prima volta vediamo di salvare quark e bianco quark ho raggiunto la nave dove ti hanno rinchiuso non saprei, è una grossa cella con una specie di campo di contenimento è buzia come la mia borsa da ginnattica al liceo d'accordo, mantieni il silenzio rapido ti contatterò quando sarò dentro ai figiutili parla nella camera stagna di Greta invio di tecnici sui posti attenzione soldati abbiamo appena preso che il ribelle azimuth si è sfuggito di nuovo ho parlato con il dottor Revarios che ha accettato di portare a 50.000 volta la taglia per la sua cartona mi ho morto io sono un tecnico Fred, sei tu, azimuth è fuggito prima di 5 volte tu non sei Fred preparati a... iiyaaaah li l'identazione elef principale è rilassato tu pu attenzione soldati non dimenticatevi guarda ti indietro di giustiziarii dei giardieri prima di anche hanno liberato la posizione del rimale azimuth mi ricordo anche che oggi la messa servirà torno al grido Oh! 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 Che cosa è difficile? Grillo di contenimento disattivato Eh Se sono arrivati a scoprire Rivezate qui Allarme, allarme Allarme Allarme, allarme Allarme, allarme Allarme, allarme Allarme, allarme Ovvio che fa male Cioè, più più Tanto vale farmi colpire Allora No, venga, ti va Lo que si No, venga, ti va Allarme, allarme 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 Oh oh Hiya! Sì, mister Zurkon. Dov'è? Ti prendo sì, amico. Mister Zurkon è il compagno perfetto per allegre scampagnate in aree aliene ostile. Oh oh, questi tizi vogliono una cena a base di Lombax. Ma niente paura, sguintagli il tuo mister Zurkon e lui attaccherà ogni creatura nemica. Juhu, mister Zurkon è qui per uciderlo. Mister Zurkon, un prodotto esclusivo Grummelnet. Anche, non mi sono, mister Zurkon. Nel il 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 Vieni! 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 Non so che ieri! Non so che ieri! Non so che ieri! Non so che ieri! Vieni! Ah, li vogliono aspettare! Perché non so che io mi stai giudicando! Non so che ieri! Tu ti ammaschi per me! Allora... Ehm... Cos'è? Ah, è un pezzo del Rhino! Sì! E a dirlo tutto ragazzi! Il Rhino di questo video gioco... Rispetto all'armi di distruzione... Fa cagarmi! Vi devo sapere che... Non è che c'è la musica! Nananananananana... Nananananana... Nananananana... Manco... Che novità! Che novità! Manco... Cosa stavo dicendo? Fa questa musica qua il Rhino Sesto! Manco stessimo giocando... No! Manco stessimo guardando Vipervendetta! Vedo un esempio la cancettina... La musica che parte all'inizio quando fanno saltare... Ecco! Quando c'è la prima esplosione bestiale! In Vipervendetta! Ecco! C'è la musica lì quando spari con questo Rhino! Ma io ho un livello inizio e... Che poi sono? Guarda dove mi vuoi, perché ho un livello inizio e inizio. Non è carino! 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 Ma non è carino! Ma è carino! Grazie a voi, i miei figli! No! Cosa sono anche quelle cose! Allora, vediamo di mandare in cortocircuito qualche consiglio Rilasciato Sì Danneggiamogli per bene la vita La vita La vita Modulo terzino Vi alimentazioni per spaziale Rilasciato Modulo terzino In situazione di corrente nel locale del server ausiliare Dovremmo essere amici Grazie 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 Non è che intende niente, non è che posso lasciarlo. Vai! Non era Anzimuth, era solo un giovane Lombax. Guardie, mettete nel fresco. Se prima di saltare nell'altro settore, avrà avuto il seguito e iniettate i cuori dalla nave! Aiuto! Mancuno ci aiuti! Ok, mister Zurgo ci ha ricaricato. Sei pronto a massacrarli? È l'aiutante del tizio verde! Siamo salvi! Sapevo che saresti venuta ad aiutarci. È un piacere vederti, Ratchet. Ora dobbiamo trovare il modo di uscire. Tu, bambino, come ti chiami, buttati contro questa parete laser con tutta la tua forza. Ehi, signore, e se provassimo col controfusibile? Forse se lo tiri fuori il campo si abbassa. Controfusibile. Yuhuu, mister Zurgo è qui per ucciderti! Ve l'abbiamo fatta! Seguitemi! Vi porterò fuori di qui! Non fai piano! Non facciamo scattare l'allarme! Farà scappare l'allarme! Che farei va! Presidere con tutti i palazzi! Ehi, signore! Non faccio i palazzi! Non faccio i palazzi! Misir 2! Abora! Non faccio i palazzi! Corri su andamine! Fuori i palazzi! Buon caso, tu hai mandato il fluggo. il ponte è fuori uso ma come faccio avanti? capite 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 cavo mi arriva ilmtup si beh c'è mancato poco che dovessi lanciarmi al sicuro io stesso dai muori comuno non fuori non ho non ho dobbiamo non non ne Grazie a tutti. Sì, salito 10. Io apro le porte. Tu porta in salvo i Fongoid. Qualcuno ha bisogno del bagno? Non vorrei che mi ricordasse di doverla fare dopo che sono uscito dalla paia di carico. Abbiamo finito di uccidere. Stando al computer di bordo, deve esserci un interruttore manuale da qualche parte in quella stanza. Dai un'occhiata alla rampa gravitazionale. Ah, deve essere così. Portare il blocco manuale. Attivato. È finito immediata. Lancio della navetta tra 3, 2, 1... Ok, è il suo pochino che è ricalza. No! Computer, è sempre un mio spazio di internave. Voglio sapere che aiutati che pure a scoppa. Il mio scout è un'acqua di minera a casa. È un'acqua di sinistra. È un'acqua di sinistra. È un'acqua di sinistra. Io non l'ho messo mai.